Buongiorno e ben trovati dalla redazione del TG60. Per questa nostra edicola del mattino, occasione per cominciare insieme la giornata nel segno delle notizie, sfogliando insieme i quotidiani usciti questa mattina nelle edicole attraverso quelli che in tempo reale danno notizie sull'Italia e nel mondo, grazie ad internet e naturalmente le notizie che arrivano in tempo reale dalla nostra redazione giornalistica. Questa mattina, lunedì 9 gennaio 2017, iniziamo sfogliando insieme il Tirreno nella sua edizione di Pistoia, Prato e Montecatini. Andiamo a vedere con cosa apre in prima pagina. Grazie alla regia andiamo a inquadrare subito la prima pagina del quotidiano che in taglio altro fa il punto sui cambi nella politica. Un parlamentare su quattro ha cambiato partito, sotto osservazione i cambiamenti di casacca, come si suol dire, dei politici toscani. Novi deputati e sette senatori che hanno cambiato schieramento da quando sono stati eletti in Parlamento. Lo spunto è offerto dalla cronaca, cronaca non italiana ma a livello europeo, dopo la decisione, ed è in corso la votazione online nel Movimento 5 Stelle, di cambiare il gruppo parlamentare a livello europeo da quello euroscettico di Farage, invece a quello liberal democratico definito ultra europeista. Intanto poi dopo si vedrà nel corso della mattina come andrà la consultazione online tra gli iscritti del Movimento 5 Stelle. Sta di fatto che questo è uno dei temi politici che più stanno catalizzando in queste ore l'attenzione a livello nazionale. E a questo tema, nei suoi di varie sfaccettature, è dedicato dunque il primo pezzo del Tirreno. Naturalmente la cronaca è in primo piano, c'era da aspettarsene, lo vediamo nella prima pagina, ne abbiamo parlato anche noi nelle nostre edizioni della domenica. Anzi, approfitto per ricordarvi che la domenica su TVL il telegiornale va in onda alle ore 21 e non alle 20.15, come è il suo tradizionale orario serare. Questo anche per armonizzarsi con il resto del palinzesto, che la domenica è principalmente legato allo sport. Ma le notizie in tempo reale, come abbiamo fatto anche ieri, sono puntualmente presenti sui nostri social network. Anzi, approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno sfruttato in primo luogo Facebook per informarsi. In tantissimi hanno visto le notizie che abbiamo messo nella giornata di ieri con una serie di lunghe dirette, proprio per documentare il fatto del giorno, ovvero una bomba in Viale Adua, bomba pronta per esplodere, trovata su parabrezza di un'auto in Viale Adua a Pistoia. Nella fotografia l'artificiere della polizia che era intento ad analizzare appunto questo rudimentale ordigno artigianale che era stato posato sul parabrezza di una vettura in Viale Adua, non lontano da Ponto Europa. Quindi per chi non fosse prestoiese, Viale Adua è un'arteria principale, importantissima, che collega a nord e sud della città. Un'asse portante della viabilità al suo centro, diciamo così, c'è uno snodo, che è quello di Ponte Europa. Ecco, non lontano da questo punto era parcheggiata la vettura sotto un palazzo dove abita il proprietario e sul parabrezza della vettura una Mercedes classe A era posato questo ordigno rudimentale che poi è stato fatto esplodere, ricordo, perché si fosse perso il servizio. Naturalmente, come sempre, il nostro social network, ma nel corso della mattina vi riproporremo al servizio all'interno del Notizia in Corso, il nostro contenitore di informazione della mattina. E a proposito di un'allarme bomba reale, questa volta che poi si è verificato come reale, ovvero la presenza dell'Ordigno, a Prato, una situazione simile ma da risvolti diversi, Prato, Piazza Duomo, falso allarme per una tanica piena di olio. Questo in qualche modo ci riporta al clima di tensione che comunque c'è non soltanto in Italia, ma nel mondo per la serie di attentati che stanno purtroppo funestando vari paesi. Ieri la notizia dell'altro in Israele nei confronti di un gruppo di militari che sono stati investiti da un altro, l'ennesimo camion che si è gettato sulla folla. Attentato rivendicato, sembra, anche in questo caso, dall'Isis, ma ne parleremo più avanti. Cronaca sempre in primo piano sul Tirreno che ci porta a Montecatini. La Rissa è nata da una rapina, arrestato minorenne per il Far West in piazza del Popolo a Montecatini. Mentre, restando nell'area pratese, l'altro tema più leggero riguarda la raccolta dei rifiuti. China Town, la raccolta rifiuti, porta a porta, si allarga. In taglio basso, invece, spazio allo sport. Ne parleremo tra poco con i commenti. In primo luogo, per quanto riguarda il basket, ricordo il campionato di calcio, quello che interessa la Pistoiese, principale formazione che noi seguiamo nei nostri canali sportivi. Ricordo Sport TV, 193 del Digitale Terrestre, canale tematico della nostra emittente. In primo luogo, il basket, la Deflex frena, addio alle finali di Coppa, sconfitta a Brescia, fatale il terzo quarto. Mentre, per le altre formazioni del nostro territorio, serie di Montecatini, sontuoso al Mariotti. Mentre in serie di Jolly, Montemurlo, affonda a Sanremo. Questi titoli scelti, ma ne parleremo tra poco. Andiamo subito a vedere, nelle pagine interne del terreno, come detto, si parla di cambiamenti in politica. Ricordando che comunque non è una cosa illegale o non permessa. La politica lo consente, quello di cambiare un proprio schieramento rispetto a quello in cui si è eletti sul terreno. Si fa un po' un'analisi sotto la lente di ingrandimento chi ha cambiato Casacco. La nuova Casacca è appunto il titolo, uno su quattro cambiato partito. I parlamentari toscani hanno detto addio al gruppo di cui erano stati eletti. E qui si fa, con tanto di fotografia e breve curriculum sintetico, un po' i cambiamenti da Bianconi a Nesi a Parisi e così tutti gli altri, fino a Verdini. Soltanto per citare alcuni nomi. E dicevamo a proposito di svolte, è in corso dunque la votazione telematica del Movimento 5 Stelle, svolta a 5 stelle. Questo è il titolo. Grillo lascia a faragere, sposa, virgolettato, i liberali. La base in subbuglio, una scelta non compresa da una parte degli iscritti del Movimento, che hanno fatto sentire anche il loro scetticismo a riguardo a proposito di euroscettici. Salto di gruppo dagli euroscettici agli europeisti di Alde. Il voto online spiazza anche i vertici. Sibiglia, meglio soli uno dei commenti. Gli iscritti, abbiamo detto, avranno tempo per votare entro le 12 di quest'oggi. Una scelta in qualche modo spiegata, anche con la possibilità di incidere maggiormente nelle questioni politiche a livello comunitario, dallo stesso Grillo, che spiega, in un lungo post elettorale, Beppe Grillo, spiega che la decisione è stata maturata dopo il voto sulla Brexit. A Strasburgo viene spiegato che possiamo anche decidere di non allearci con alcun gruppo, ma in questo caso i nostri rappresentanti potrebbero essere irrilevanti. Sarebbero tagliati fuori da molte decisioni e dalla possibilità di accedere a ruoli istituzionali. Alde conta 68 euro parlamentari e con la presenza del Movimento 5 Stelle diventerebbe la terza forza politica. Questo che cosa vuol dire da un punto di vista pratico? Lo si spiega sempre sul giornale, ovvero significa essere lago della bilancia. Con il nostro voto, dice Grillo, potremmo fare la differenza per contrastare l'establishment europeo. E dunque il Movimento con il suo leader si fa più pragmatico. Staremo a vedere invece come la base risponderà su questo cambiamento di rotta a livello politico e che eventuali ripercussioni potrà avere anche a livello nazionale. Si parla di pensione perché ci sono delle novità importanti per quanto riguarda in primo luogo, o meglio, riguarda soltanto le donne. Donne in pensione si può anticipare, vi rimando ad approfondimenti anche sui canali online tematici legati all'Inps. Si può anticipare a 59, 60 e 63 anni, questo solo per le donne. Dal primo gennaio l'opzione riguarda le nate tra il 57 e il 58 e a maggio arriva l'Ape, una chance per le lavoratrici del 54. Dunque ci sono dei cambiamenti che riguardano le donne, dunque una questione non da poco in questo momento. E se ne dà conto nel Tirreno. Dicevamo del clima di tensione a livello internazionale. La cronaca ci porta a Gerusalemme dove c'è stato l'ennesimo attentato con la stessa dinamica, ovvero un camion, un mezzo pesante, lanciato sulla folla. Era già successo, purtroppo lo dobbiamo ricordare, a Nizza e poi a Berlino. E' successo anche a Gerusalemme dove un camion ha fatto strage di soldati israeliani. Vediamo il titolo. Eccolo qui, Gerusalemme come inizia a Berlino. Quattro vittime ucciso l'attentatore palestinese. Il premier è dell'Isis, Hamas esulta. E a proposito di vicino oriente, si dà conto in Iran della morte dell'ex presidente Rafajjani. Era un conservatore pragmatico. A proposito di esteri, l'Italia e il mondo sul tema dei migranti. Si parla con la presa di posizione del ministro Pinotti. Lotta agli scafisti va fatta in acque libiche. Questa è anche la svolta sulla politica italiana per ridurre i flussi indispensabili in un accordo bilaterale minniti a Tripoli per discutere la questione migranti. Dunque accordi bilaterali con i paesi, in primo luogo la Libia. Dunque da dove partono una gran parte dei flussi migratori. E a proposito di esteri, una notizia che riguarda invece il Regno Unito. Dopo un lungo periodo di silenzio, che aveva fatto anche un po' temere per le condizioni di salute, la regina Elisabetta è riapparsa in pubblico dopo alcune settimane. E come dice il Tirreno, c'è sollievo in Gran Bretagna per le sue condizioni di salute. La regina inglese malessere. Tanti in questi giorni sono fermi a letto per l'influenza. Questo sta portando anche non pochi problemi sul fronte delle strutture sanitarie. E il Pistoiese ne sa qualcosa. Con il pronto soccorso del San Jacopo e del Santi Cosme e Damiano, letteralmente presi d'assalto dalle persone, questo ha generato non pochi problemi sul fronte della gestione. Con gli operatori dei due pronto soccorso, in primo luogo, che sono stati veramente costretti a lavoro extra per cercare di dare risposte a tutte le persone che in questi giorni si stanno regando in ospedale per chiedere aiuto per le proprie condizioni di salute. Tutto questo è legato anche al maltempo, al maltempo che sta creando problemi sul fronte della sanità, ma anche sul fronte dell'ambiente. L'Italia resta sotto zero. Situazione critica in primo luogo al sud. Scuole chiuse in molti comuni. A Roma in aula con vestiti adatti al freddo, si dice. Ed il Papa ha lanciato un appello. Aiutate chi non ha un tetto da Messina a Torino. Aperti uffici e stazioni. Una situazione che per il momento, facciamo i debiti scongiuri, non sta interessando l'aria pistoiese, nonostante le temperature veramente basse. Ce ne occuperemo nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale, ma abbiamo già sentito gli operatori. A Pistoia esiste un piano emergenza freddo, studiato dalla diocesi, dal comune di Pistoia, proprio per fronteggiare queste situazioni di temperature particolarmente rigide, proprio per venire incontro alle persone che si trovano a vivere in strada. La situazione appare al momento sotto controllo. Soltanto per citare una delle strutture che è stata messa in campo in maniera straordinaria per questa fase, la mensa Don Silo Butelli a Tempio, che è aperta 24 ore su 24, proprio per offrire un posto caldo dove potersi rifocillare. in questi giorni davvero difficili per chi è costretto senza una casa a vivere in strada. Come detto, ne parleremo nelle nostre prossime edizioni del nostro telegiornale. Problemi che riguardano, ci sono stati infatti alcune persone che hanno perso la vita anche in Toscana, dei senza tetto, proprio perché sorpresi dal freddo che non ha lasciato loro scampo. problemi che stanno riguardando anche il mondo dell'agricoltura, in primo luogo nel sud Italia, in zone come ad esempio la Puglia e parte della Basilicata, dove il freddo ha letteralmente falcidiato le produzioni agricole, campagno e ginocchio, danni per milioni, ma la neve sugli olivi fa asperare contro la xillella. Questo in primo luogo riguarda il sud, fortunatamente la Toscana non ha di questo problema. coltivazioni colpite soprattutto in Puglia ed in Basilicata, dicevamo. Ma se il freddo, diciamo così, colpisce in maniera subito, la lontan'altra situazione è l'uomo ad essere fautore del proprio male. Purtroppo è la storia che ci viene da Ostia, vicino Roma, nella zona sud di Roma, dove un padre ha lasciato il figlio al gelo per andare a giocare alle slot machine. L'uomo è stato arrestato e questo purtroppo non c'è molto da commentare, è veramente una situazione poco felice. Prima di tuffarci nella cronaca locale, andiamo a vedere subito invece quali sono i temi al centro della nazione. Cominciamo naturalmente dalla prima pagina, eccola qui, la inquadriamo. In taglio alto naturalmente si parla della vicenda del pacco bomba a Pistoia e della situazione influenza, l'abbiamo accennato anche noi, mentre l'attenzione è posta sul titolo principale, che poi dopo viene affrontato già dalle prime pagine, ovvero gli abusi per lo sfruttamento della legge 104, congedi la grande truffa, abuso sulla legge 104, permessi facili con la scusa di assistere familiari malati scoperti in vacanza o alla partita, un imbroglio da 700 milioni di euro. È il punto su cui fa l'attenzione, con un ampio servizio, scrive in due pagine la nazione di spalle alla politica con la svolta europeista del Movimento 5 Stelle, il ministro Pinotti, e l'abbiamo visto prima sul Tireno, stop scafisti nel mare della Libia e l'attentato a Gerusalemme. La fotografia è di tema sicuramente importante per la tipologia, ma diciamo così più leggero, riguarda personaggi del mondo dello spettacolo, la storia di una giovane che diceva essere figlia del Pù Dorazio, mio padre Dorazio, il batterista del gruppo in tv, si era ammaricato di non avere avuto bambini, ora voglio la verità. Questa è la storia messa in prima pagina e ci diamo per onore di cronaca, ma non di più. Per quanto riguarda il lavoro, tra i titoli che vi leggiamo, la bufera che sta interessando in questi giorni, in queste ore, il sindacato, la CGL, quella che riguarda i voucher, c'è anche una proposta di referendum, bene, lo avrete probabilmente sentito, una questione che sta investendo direttamente il sindacato perché si analizza ciò che sta succedendo, pensioni d'oro e libertà di licenziare, i privilegi della casta dei sindacati. Altro che voucher per i loro dipendenti, non c'è mai stato l'articolo 18, è l'articolo di Antonio Troisi, non tenero con la CGL, dopo il caso dell'uso di voucher nel sindacato dei pensionati e della mail interna, nella quale si diceva di minimizzare. Ma anche all'interno della CGL c'è una voce critica, è quella della FIOM, buoni lavoro, bacchettata della FIOM, un grave scivolone, usarli anche noi. E questa è la pagina dedicata al sindacato, principale sindacato del paese, da parte della nazione. La cronaca, l'abbiamo visto, purtroppo ci porta a Gerusalemme con il nuovo attentato, con un camion, queste sono le fotografie drammatiche, anch'esse, che uniscono nuovamente Gerusalemme, Inizia e Berlino per la tipologia di attentato. Il costume, un'ampia pagina dedicata al costume e colore. E andiamo alla pagina locale, prima poi di parlare di sport. Dunque, la vicenda di Pistoia e della bomba sul parabrezza della vettura, artificieri in azione, strada bloccata, è il titolo del tirreno, l'ordigno era appoggiato sul vetro anteriore dell'auto, ancora intatto, perché la miccia si era spenta. Infatti, questo è uno degli particolari più inquietanti di questa vicenda. Infatti, colui che ha messo questo ordigno ha tentato di innescarlo, ma sembra proprio che la miccia si sia naturalmente spenta da sola. Quindi l'esplosione, probabilmente, se qualcuno si fosse trovato a passare di lì, avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi dei soli danni materiali e naturalmente dell'impiego di forze, di uomini e mezzi per cercare di controllare la situazione di quanto in realtà effettivamente è stato. Traffico bloccato sul viale Adua con l'intervento, lo si vede qui in fotografia, di un artificiero, la squadra mobile della polizia, leggiamo, sta indagando per accettare la natura del fallito attentato messo in atto certamente durante la notte, sono state escluse sin da subito piste di natura terroristica. Dunque, si tratterebbe di un fatto privato. Al momento non è chiaro quanto destinato, se è destinato o meno, nei confronti del proprietario della vettura, che è stato poi intervistato dalla Nazione, leggeremo tra poco le sue dichiarazioni, oppure in generale nei confronti di qualcun altro. Si starà a vedere, naturalmente gli investigatori, come si dice, sono a lavoro, stanno indagando, speriamo di avere aggiornamenti, naturalmente veriteremo nel corso, se ce ne saranno, delle nostre edizioni del telegiornale. La politica, benché, diciamo così, in teorica, fase di cancellazione, poi bloccata dal referendum, le province sono ancora tra noi e sono vive e vegidi, tanto che ieri si è votato per il rinnovo dei consigli provinciali. Ne abbiamo parlando anche noi nel nostro telegiornale di ieri, domenica, ore 21, in prima serata, ma intorno tra le 23 e le 23.30, nell'edizione della notte, provincia, stravince la lista dei democratici e socialisti, solo oggi saranno ufficializzati i risultati, ma lo schieramento del centro-sinistra dovrebbe aver ottenuto 8, cioè 6 su 10 la più votata, risulta la sindaca di Pieve, Gilda, Dio l'aiuti, il presidente, rimane, il presidente Rinaldo Vanni, in carica per 4 anni, quindi sino al 2019. In questo quadro, il Movimento 5 Stelle, diritto sottratto ai cittadini, noi non votiamo la scelta dei pentastellati della nostra provincia. In Val di Nemole, Rapina ha scatenato la lista in Piazza del Popolo, due ragazzi avevano finito di aiutare, scusate, due ragazzi avevano finito di aiutare a rialzarsi un cubano caduto in terra per derubarlo. Lui ha reagito ed è nata una scazzottata arrestato, un minorenne. Questo quanto è accaduto a Monticatini, nella zona di Via Don Minzoni, nella giornata di sabato. Sempre per la cronaca, dunque andiamo a vedere la nazione, prima di fare un po' il punto per quanto riguarda lo sport, in taglio altro la notizia appunto con la cronaca e della bomba in Viale Audua, mentre si fa il punto sulla situazione influenza, l'abbiamo accennato poco fa, influenza e paura della meningite, in tanti infatti con febbre molto alte si regano al pronto soccorso anche con il timore che possa esserci meningite e dunque questo è uno degli elementi che fa affollare i punti di accesso agli ospedali. Pronto soccorso ancora esaurito, tra virgolette, c'è anche chi si porta il cibo da casa per affrontare le lunghe attese ai cronisti della nazione. Sono stati al pronto soccorso e raccontano nel loro articolo firmato in questo caso da Giulia Righetti ciò che accade in una quotidiana giornata al pronto soccorso. In effetti si legge in chiusura del pezzo l'emergenza dei ricoveri ha messo in allarme l'intero personale dell'ospedale al pronto soccorso è stato aumentato il numero dei letti e sono stati richiesti i carrelli aggiuntivi per i pasti delle prossime due settimane dato l'affontanamento degli ultimi giorni che non accenna a diminuire e dunque è una situazione che non si esaurisce. dicevamo dell'attentato in Viale Adua e il cronista della nazione è Leonardo Biagiotti ha intervistato il proprietario della vettura che ha detto ha capito subito chiede il cronista eccolo qui al cronista che quel pacco poteva essere un ordigno in grado di esplodere domanda al proprietario dell'auto un giovane 33 anni 33enne che vive a Pistoia ma lavora nel Pratese no anzi l'ho aperto l'ho preso in mano all'inizio pensavo fosse uno scherzo di cattivo gusto poi ho visto che era sigillato con del silicone nella parte più bassa così ho chiamato la polizia il suo racconto e più avanti come si spiega che qualcuno abbia sistemato un pacco bomba sulla sua macchina domanda non me lo spiego affatto risponde non trovo nessuna giustificazione è possibile adesso come viverà considerata la gravità di questo episodio chiude il giornalista sono tranquillo vado avanti per la mia strada come sempre continuerò a fare la mia vita esattamente come ho fatto finora forse si è trattato di un caso forse semplicemente di uno spregio certo è che ripensandoci sono stato fortunato ed è proprio il caso di dirlo perché se l'ordigno fosse esploso diciamo così non possiamo pensare cosa sarebbe potuto succedere in montagna in montagna è tornata la neve ne abbiamo parlato nei nostri notiziari in ritardo rispetto al suo consueto calendario questo ha portato non pochi problemi per quanto riguarda tutto il settore legato al turismo bianco se ne parla nel pezzo della nazione firmato da Elisa Valentini stagione in salita bilancio migliora ma le feste sono ancora in rosso parla Orlando Galli siamo passati almeno 50% di presenze parla anche Andrea Formento che è direttore degli impianti della Val di Luce e quest'annata ha detto dimostra la necessità di investire per la creazione di nuovi bacini di accumulo che oltre a potenziare le capacità di nevamento artificiale aiuterebbero a fronteggiare eventuali situazioni di carenza idrica in paese nei periodi di maggior affluenza di turismo questa è una delle valutazioni che fanno gli operatori del settore vediamo adesso allo sport sport che per quanto riguarda i risultati lo ricordiamo che il calcio era fermo si torna in campo per la Pistoiese il 22 e gli arancioni saranno impegnati nel derby contro il Prato mentre sempre per in calcio il Serie D il Valdinevole Montecatini vince contro l'Argentina Armadittagia 1-0 in eccellenza l'Arcianese sconfitta dalla San Gimignanese 2-1 e Ponte Bugianese vince contro la Portuale mentre per quanto riguarda il basket in Serie B Fabiani Montecatini Empolese vittoria per i Termani 64-47 San Gimignanese Valentinas bene il Bottegone che spugna il campo avversario 79-63 Omegna San Mignato Omegna vince contro la formazione Toscana 81-73 per il basket sconfitta l'abbiamo visto ieri in diretta sui nostri schermi la partita di Brescia la deflex 97-79 da parte del Leonessa e vediamo subito il servizio di Pietro Pisaneschi che ci fa un po' la sintesi del match e poi i commenti Nell'ultima giornata del girone di andata Pistoia esce sconfitta dal Palagiorgio di Montichiari perdendo 97-79 contro la Germani Brescia la deflex manca dunque l'accesso alle Final 8 di Coppa Italia in favore proprio di Brescia che da neopromossa c'entra dunque un taguardo di metà campionato di tutto rispetto Pistoia approccia bene la sfida al Palagiorgio limitando per 20 minuti di gioco le bocche da fuoco bresciane non subendo più di tanto la difesa zona predisposta dalla squadra di Diana 39-36 il parziale con cui le squadre vanno negli spogliatoi per il reposo di metà partita primi due quarti giocati sul filo dell'equilibrio con Barnes in grande spolvero dalle parti di Bresciane e un Roberts incaricato di limitare difensivamente Luca Vitali il peso dell'attacco bianco-rosso ricade dunque sulle spalle di Rom Moore è lui l'incaricato di cercare di scardinare la difesa bianco-celeste sia con soluzioni personali sia smazzando assist ai propri centri che lucrano sulla non sempre attenta zona della Germani nel terzo quarto però la musica cambia decisamente e Brescia sprigiona tutto il suo strapotere offensivo Landry segna 14 punti in 10 minuti e Michele Vitali è sostanzialmente perfetto sia da 2 che da 3 punti un gioco da 4 punti del fratello minore del play Luca è la giocata che sostanzialmente in strada la sfida dalle parti bresciane Pistoia viene tenuta a galla dai punti di Moore che chiuderà la sfida con 18 punti a referto e da Michele Antonutti che stoicamente gioca sul dolore siglando 11 punti l'attacco bresciano continua però a macinare canestri anche nel quarto quarto oltre a chiudere ulteriormente le maglie in difesa gli esterni di Pistoia non trovano il canestro da fuori Petto e Cournot crollano dinnanzi alla zona bresciana tirando complessivamente con 3 su 13 dal campo e la Germani ne approfitta mantenendo il vantaggio in doppia cifra fino alla sirena che suggella il trionfo bresciano Pistoia interrompe la striscia positiva di tre vittorie consecutive adesso una settimana di riposo per gli uomini di coccia esposito il ritorno in campo è previsto per il 22 gennaio nella sfida interna contro Cremona diretta contendente per la tanta gognata salvezza questa è la cronaca e vediamo come la commentano i nostri quotidiani la nazione final 8 addio ai sogni con un titolo che va su due pagine a Brescia finisce 97 a 79 terzo quarto decisivo commento di coccia esposito la chiave del KO eccola qui è stata la difesa deflex fanno male i morsi della Leonessa più poetico invece il titolo del Tirreno grande prova della Germani contro una buona Pistoia dunque niente final 8 per i biancorossi a Rimini anche Brindisi grazie alla vittoria di Avellino su Trento mentre si dà conto anche qui sul commento di coach esposito intensi all'inizio incapaci di difendere poi coach esposito parla di una sfida dai due volti la loro esperienza si è fatta sentire è il commento naturalmente vi ricordo degli appassionati di sport quest'oggi dopo il TG delle 14 e 20 intorno alle 14 e 40 circa 40-45 circa la replica di Assis andata in onda ieri sera su TVL per un ampio resoconto sugli principali appuntamenti sportivi delle formazioni del nostro territorio in chiusura visto che ormai il tempo a nostra disposizione come sempre è volato e dunque si è esaurito giusto vedere alcuni temi dell'ultima ora sul fronte della cronaca nazionale purtroppo lo leggiamo da Repubblica un nuovo caso di violenza nei confronti di una donna da parte di un ex la Vistoria ci porta a Messina dove lei lo lascia e lui le dà fuoco gravissimo una ragazza di 22 anni e caccia al giovane in fuga l'ex fidanzato quando ha aperto la porta le ha rovesciata la benzina sul corpo questo la ricostruzione di quanto ha accaduto l'altra vicenda invece ci parla di sanità di ciò che è avvenuto nell'ospedale di Nola pazienti curati a terra su Facebook la foto denuncia e questo forse è anche un po' il segno dei tempi con i social network che stanno diventando sempre più mezzo di denuncia soprattutto denuncia che arriva dal basso da parte dei cittadini la foto è davvero significativa sembra un campo un soccorso medico in un campo di una zona di guerra o terremotata mancano le barelle posti letto i malati vengono curati sul pavimento chiesta un'interrogazione parlamentare si legge dal Corriere della Sera il governatore della Campania dispone una indagine interna queste forse sono le due principali notizie di questi momenti grazie per essere stati con noi sul fronte della cronaca dalla redazione ci comunico che non ci sono aggiornamenti significativi sul fronte della cronaca locale dunque per queste ed altre notizie se naturalmente ce ne saranno nel corso della mattina vi rimando alla prossima edizione del nostro telegiornale alle 14.20 su TVL naturalmente non mancate di collegarvi con il nostro sito o sulla pagina di Facebook di TVL dove nel corso della mattina sino al prossimo notiziario e poi così via via nel corso della giornata vi daremo aggiornamenti sul fronte della cronaca e non solo che seguiremo nel corso della giornata grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti